Una buona giornata cari amici, oggi è una giornata piena di calci, inizia un grande weekend. Oggi gioca la Serie A e infatti sono in partenza per Udine, perché stasera commenterò Udinese-Roma. Una partita secondo me piuttosto elettrica, l'Udinese ha bisogno di fare punti, la Roma deve vincere la sua prima partita in questo campionato. Tra l'altro la giornata si è aperta con l'inattesa vittoria della Sampdoria, 2-1 a Firenze, una brutta serata per la Fiorentina, forse l'ultima dichiesa con la maglia viola, la fascia del capitano, il palo colpito, soprattutto la sconfitta che dà un po' di slancio al Doria di Ranieri e invece frena una Fiorentina che pensava di essere partita meglio di quel che non dice poi la classifica, perché poi rimane la vittoria col Torino, rimane la bella prestazione di San Siro, 0 punti, rimane la serata completamente negativa contro la Sampdoria. Ma parleremo di calcio italiano domani, oggi gioca anche la Premier League e insomma l'appuntamento fra Pep Guardiola e Don Marcello Bielsa, secondo me un po' di interesse lo vale, è una partita che attendo e che osserverò, della quale ovviamente vi parlerò, ma oggi gioca anche la Liga e se il vero partidasso è domani, perché domani sera alle 21 al Camp Nou, si affrontano Barcellona e Siviglia, le uniche due squadre a punteggio pieno, due vittorie a testa nelle prime due partite giocate, la classifica è ancora un po' disassata dalle partite diverse, dagli impegni diversi, perché ad esempio il Real Madrid di partite ne ha giocate tre, c'è chi ne ha giocate quattro. Ecco, per quanto riguarda il weekend di Liga, Barca-Siviglia, che ripeto, commenterò io e di conseguenza è un'altra partita su cui ho il mirino puntato, è l'appuntamento primario. Oggi c'è un bellissimo incrocio fra Atletico Madrid e Villarreal, il Villarreal qualitativo di Unai Emery che ha preso uno shampoo dal Barcellona, ma che per il resto ha fatto sette punti, e questo Atletico Madrid che con l'arrivo di Suárez pensava di aver inaugurato immediatamente una nuova era, dopo i sei gol dati al Granada è arrivato lo 0-0 contro l'Uesca, che ha un attimo frenato la banda del ciolo, ma la partita di oggi pomeriggio è un'altra partita da guardare assolutamente, perché ci sarà molto da divertirsi. Per cui in questo video voglio parlarvi di quello che è successo in questo avvio di Liga, ripeto, un avvio un po' particolare, perché le grandi hanno iniziato dopo, ci sono state partite diverse per protagoniste diverse, ad esempio il Chiettaffe ha sfruttato lo slancio della ripartenza dopo che invece era ripartito malissimo nella seconda parte della scorsa stagione, e ha fatto sette punti. C'è chi ha partito molto bene e poi si è incredibilmente piantato, come ad esempio il Betis, ma quello di cui voglio parlare principalmente è ciò che hanno fatto vedere Real Madrid e Barcellona fin qui, anche perché dopo la sosta ci sarà presto il classico, la data è quella del 24 ottobre, primo grande incrocio fra Real Madrid e Barcellona. Sono due squadre che si stanno riproponendo e stanno proponendo soprattutto dei volti nuovi che sono destinati, con ogni probabilità, a rinverdire la vecchia rivalità, quella fra Messi e Ronaldo. Messi è rimasto al Barcellona e adesso vedremo anche come ha ricominciato, però l'impressione è che stiano sorgendo due super talenti che hanno età diverse, che hanno esperienze diverse, ma che potrebbero presto diventare i grandiosi simboli di queste due squadre. Uno è Vinicius Junior, a Madrid l'altro è Ansufati, a Barcellona. Parliamo di Real e Barça e dei loro gioielli ormai stabilmente messi in vetrina. Inizio dal Barcellona. Il Barcellona ha vissuto l'estate più caotica, più problematica, più piena di incognite e anche forse più deludente della propria storia recente, perché c'è stato il 2-8 con il Bayern Monaco, un risultato direi impossibile da digerire per un club del genere e per un ambiente del genere. C'è stata la querelle con Leo Messi, la paura seria di perderlo e comunque il fatto certificato che Messi volesse andare via dal Barcellona. Poi è rimasto, perché hanno sbagliato un po' tutti, perché non poteva andare via, ma questa cicatrice rimane. Infatti vi ho sempre parlato di stagione potenzialmente più interessante dell'intera carriera di Messi. C'è una società che è completamente sfiduciata, che sta cercando di operare sul mercato. E' arrivato Serginio Dest, che è un acquisto interessante, un ragazzo molto giovane, però con grandi prospettive, un terzino estremamente offensivo, che dovrà essere inserito in un sistema, quello di Rambo-Kuman, che comincia a dare riscontri molto molto piacevoli. Koeman è entrato come una ruspa nel mondo Barcellona. Vedi la situazione di Suarez, vedi anche i discorsi commessi, vedi anche altre scelte come quella di mettere da parte non solo dei senatori, ma anche ragazzi che sembravano virgulti promettenti. Ricky Pudge è l'esempio più chiaro. Però non è un progetto campato per aria, anzi. È un progetto che tende ad inserire i giovani. Vi ho parlato di Serginio Dest, abbiamo visto nelle prime due partite, che sono state una vittoria roboante con il Villarreal, spazzato via 4-0 già nel primo tempo, e un'altra vittoria estremamente emblematica, 3-0 sul campo del Celta Vigo, giocando un tempo abbondante in inferiorità numerica e segnando due gol in 10 contro 11. Ecco, in queste due vittorie di giovani ne abbiamo visti anche con i nomi di Pedri, un trequartista canario che l'anno scorso ha fatto cose molto brillanti in seconda divisione con il Las Palmas, è arrivato, sembrava destinato a un prestito, e invece è subentrato in entrambe le prime due gare. Stessa cosa per Trincao, un investimento da una trentina di milioni, un classe 99 che ha già dato delle dimostrazioni chiare sia allo Sporting Braga che con le nazionali giovanili portoghesi, anche lui subentrato due volte, e a Balaidos addirittura è entrato Trincao, che è un alla destra che gioca sul sinistro, perché Mancino ha queste partenze focose, palla al piede, ma anche tagli, tagli molto accuminati, senza palla. Bene, è entrato lui e non è entrato Dembélé. Altri messaggi mandati da Koeman. Però, quello che si prende il fuoco, il centro delle attenzioni in questo momento, in un Barca che ha cambiato completamente stile di gioco perché si gioca 4-2-3-1 adesso, e quindi non più il trivote, il centrocampo a tre, caratteristica tipica del gioco catalano negli ultimi anni, ma una mediana a due dove regna principalmente De Jong e al suo fianco, comunque si sta adattando, è una cosa che viene quasi difficile da dire, ma si sta adattando con prestazioni crescenti. Sergi Busquets, in attesa di Pjanic, in attesa di altri che potranno dare il loro contributo, ecco, questo sistema ha, prima di tutto, rivalorizzato Coutinho. Coutinho è un top player perso negli ultimi due anni, perché da quando è arrivato a Barcellona, sì, al primo momento aveva avuto qualche buona prestazione, però ha infilato poi un anno molto misero, è andato in presto al Bayern Monaco e, al di là della doppietta fatta al Barcellona, Coutinho non ha realizzato granché. Si è ritrovato di ritorno a Can Barsa, e in questo sistema Coutinho è immediatamente apparso come l'uomo che è tornato a casa sua. Gioca trequartista in questo 4-2-3-1, si associa molto bene con Messi, ha già servito due assist ad Ansufati e pare un giocatore completamente recuperato. Dal niente ritrovare un Coutinho al meglio del suo gioco è qualcosa che può rappresentare forse la sorpresa della stagione e sicuramente un valore molto alto. Ma poi, con Coutinho, in quello che è, diciamo, il tridente offensivo del Barcellona, perché poi dall'altra parte a destra giocherebbe Grispan, che continua a sembrare un oggetto un po' disconnesso, un qualcosa di fuori posto in questa squadra, si dà da fare, però non arriva, ma rimane Antoine Grispan. Per il momento il triangolo fantastico del Barcellona è formato da Coutinho, trequartista. Messi, che gioca quasi da falso nueve, ma non è vero. Cioè, è nella posizione... La posizione di centravanti per Messi vale solo per la grafica iniziale, per leggere la formazione, poi ovviamente Messi si muove. Messi, nei suoi primi 45 minuti contro il Villarreal, sembrava essere uno completamente spaisato. Non un giocatore con i piedi sul prato dove ha compiuto mille e mille imprese, ma uno che veramente si ritrovasse sballottato dopo un'estate in cui fondamentalmente non ci ha capito niente neanche lui. Ha segnato un calcio di rigore tirato malissimo, da lì però si è sbloccato. Già nel secondo tempo contro il Villarreal abbiamo rivisto il vero Messi, accelerazioni, tiri, possibilità di spaccare la partita. È proprio stato un cambio di attitudine dopo quel rigore segnato. E contro Salta Vigo Messi non ha segnato, però sull'azione del 2-0 e del 3-0 direi che ha fatto cose alla Messi. Quella partenza in mezzo a tutta la difesa del Salta Vigo e quel cross che ha forzato l'autorete di Olassa, e poi anche quella percussione che ha portato al 3-0 di Sergio Roberto. Per cui mi sembra che Messi si sia messo in moto, e se Leo Messi si mette in moto, allora diventa sempre il protagonista numero uno. Dappertutto, tranne che in questo Barcellona, perché paradossalmente il protagonista numero uno non è lui, ma Ansu Fati. Ansu Fati l'avevamo già conosciuto l'anno scorso. Ragazzo classe 2002, compirà 18 anni fra poco. L'anno scorso aveva rotto tutti i record di precocità. Il più giovane marcatore nella storia della Champions League con la maglia del Barcellona, il più giovane a segnare una doppietta. Tutti i riscontri immediatamente brillantissimi da parte di un ragazzo che ha una storia particolare, viene dalla Guinea-Bissau, è arrivato a Siviglia, poi si è ritrovato nel settore giovanile del Barcellona, è emerso veramente con grande caparvietà e con un livello tecnico da predestinato. Di predestinati a Barcellona e in tutti gli angoli del mondo ne abbiamo visti tanti, però questo sta dicendo cose un po' differenti. Perché oltre ad essere un esterno d'attacco, sembra essere tante altre cose. È un centravanti perché ha una definizione davvero bomber, è una mezzala perché tocca, porta palla, si associa, è un trequartista perché ha sensibilità di assist, è un'ala perché ha primo passo e va via e ti brucia. Insomma è tutto Ansufati, sta giocando largo a sinistra e sta avendo riscontri pazzeschi perché è partito titolare contro il Villareal e in quattro minuti ha fatto fuori la partita. Doppietta favorita anche dall'assismo difensivo dei Gialli, però una doppietta bruciante. Sul primo pallone arriva come una furia e lo sbatte in porta, sul secondo può anche permettersi di controllare e guardare il portiere e beffarlo. Passano altri dieci minuti e si prende un calcio di rigore quasi arrogante. È questa arroganza tecnica che piace tantissimo di Ansufati, un'arroganza tecnica positiva. Ha lasciato lì un veterano come Mario, ha battuto il rigore di Messi 3-0. Prima partita di Ansufati, seconda partita sul campo del Celtavigo. Riceve un pallone giocato da Coutinho che sta stabilendo una connessione tecnica molto interessante con questo ragazzo. E quello che fa per aprire la lattina, come dicono in Spagna, è qualcosa che giustamente, come ha segnalato il mio amico e collega e soprattutto il fuoriclasse Massimo Callegari in telecronaca, è stato un qualcosa che ha fuso Eto'o e Ronaldinho quasi. Il gol è stato molto da Eto'o, pur essendo lui un giocatore diverso. Perché quella capacità di aprire il compasso per controllare, mandare fuori asse il difensore e sistemarsi il pallone perfettamente è proprio un movimento feroce, un movimento da predatore, da leone della savana. Non a caso entrambi vengono dall'Africa, terra che dal punto di vista dell'istinto e delle movenze dà ai calciatori qualcosa di molto caratterizzante. E poi la definizione con la zampata, sempre da felino predatore ed esterno a far fuori il portiere. Ha ricordato molto Eto'o in quel gol. Poi ripeto, è un giocatore diverso. È più un Ronaldinho anche per l'allegria che mette nel suo gioco. Poi il livello tecnico, soprattutto l'utilizzo del livello tecnico è differente. Però stiamo parlando di un ragazzo che non ha ancora 18 anni, che ha già segnato più di 10 gol in prima squadra, che ha già debuttato in nazionale maggiore segnando e procurandosi un calcio di rigore alla sua prima da titolare. Un ragazzo che veramente dà l'impressione, anche con continuità, di essere un qualcosa che non si fermerà ma diventerà sempre di più. E infatti il Barcellona pensa di avere in casa non solo adesso il socio ideale per Messi con Coutinho, ma anche quello che prenderà definitivamente il suo scettro. Questo lo vedremo già a partire dalla gara di domenica sera contro il Siviglia, che rappresenta l'inizio della sua vita spagnola, quindi anche per Ansu Fati una partita palpitante sul piano delle emozioni. E soprattutto un gran banco di prova per la squadra di Lopeteghi, che non ci sarà in panchina perché è stato espulso nell'ultima vittoria contro il Levante e di conseguenza sarà squalificato. Un Siviglia che dopo aver vinto l'Europa League e aver celebrato il primo anno della ricostruzione, nel modo migliore possibile, a Siviglia hanno fatto un progetto fantastico. Monci, dietro la scrivania, e Lopeteghi in panchina hanno ricostruito completamente la squadra e l'hanno portata ad ottenere super risultati già alla prima stagione, perché il Siviglia è arrivato fra le prime quattro e si è qualificato alla Champions League e poi ha vinto l'Europa League. Ha portato a casa il suo trofeo, ma ha portato a casa un grande trofeo. Siviglia che ha cambiato ancora qualcosa per questa stagione. Il cambiamento principale sta nel fatto che se n'è andato via un leader tecnico come Banega è arrivato un super leader tecnico come Ivan Rakitic, immediatamente impiantato in prima squadra e immediatamente in gol alla prima di campionato contro il Cadice. Alla seconda è arrivata una vittoria con il Levante. È un Siviglia che non è ancora al 100% della condizione, ma è una squadra che continua a crescere. E adesso la crescita deve essere certificata dal risultato contro la grande, che manca ancora alla formazione di Lopeteghi. Sono molto curioso di vedere questa partita, perché Ocampos non ha ancora segnato in campionato, ha fatto il rigore nella Supercoppa con il Bayern Monaco, che ha visto Siviglia andare veramente a centimetri dal prendersi anche quel trofeo. C'è stata l'occasione di Ennesiri all'ultimo minuto dei tempi regolamentari davanti a Neuer, che grida ancora vendetta. Peraltro vendetta Ennesiri l'ha trovata, perché dopo quell'errore aveva sbagliato dei gol anche alla prima partita di campionato contro il Cadice, però ha deciso l'ultima contro il Levante al 92esimo, su Cross dell'Eterno che su Snavas, con un bel colpo di testa, perché è un Siviglia che arriva lanciato, con sei punti in due partite. Ocampos non ha ancora segnato, però lo vedo bello caldo. Ci sarà Rakitic, grande ex, contro il Barcellona. Ci sarà la coppia centrale, Diego, Carlos e Cundé, entrambi assaltati sul mercato, però per il momento sono rimasti. Cundé piaceva molto al Manchester City, che poi ha virato su Ruben Dias. C'è anche Fernando, che sarà un giocatore fondamentale, proprio per cercare di assorbire Coutinho fra le linee. Super partita in programma al Camp Nou, domenica sera alle 21. Mentre qualche ora prima scenderebbe in campo il Real Madrid. Real Madrid che si fida il Levante, domenica alle ore 16. E Real Madrid che è partito facendo sette punti nelle prime tre partite. Non male come bottino. I primi quattro sono arrivati con un pareggio e una vittoria in esterna, su due campi complicati. 0-0, considerato anche grigio, considerato un po' malinconico, a San Sebastián contro la Real Sociedad. E pareggiare in casa della Real Sociedad non è una cosa da buttare via. Poi vittoria anche un po' polemica. Contro il Betis, 3-2, ancora episodi da VAR, ancora un rigore di Sergio Ramos. La terza partita, la seconda vittoria, quindi i secondi tre punti che hanno portato il Real Madrid a quota sette dopo tre gare, sono arrivati invece nell'infrasettimanale mercoledì contro il Valladolid. Una vittoria molto sudata. Perché il Real Madrid ha trovato un'opposizione fiera da parte del Valladolid? Di Sergio González, che è una squadra piccola, con un budget ridotto, pur avendo come presidente Ronaldo il fenomeno, che ha ottenuto due salvezze eccellenti, secondo me, proprio per questo. Però due salvezze con un calcio di reazione. Un calcio chiuso, un calcio con pochi gol segnati, un calcio in contropiede. Adesso a Valladolid, perché in Spagna si ragiona così. Hanno deciso, ok, abbiamo fatto due grandi imprese salvandoci così, adesso cambiamo, adesso cerchiamo qualcosa di più, a costo di rischiare qualcosa di più. È una squadra che si è messa a voler giocare, a voler tenere il pallone, e quindi un cambio di pelle molto particolare. Ma un cambio di pelle che sta dando già dei riscontri, nonostante anche delle indisponibilità. È una squadra che non è ancora completa. È stata una bella partita, quella fra Real Madrid e Valladolid. L'ha vinta il Real 1-0 perché? Perché Zidane, in questo obbio di stagione, sta cercando di utilizzare tutta la rosa. Tant'è che è partito titolare due volte consecutive. Jovic, che non ha segnato, ha sbagliato ancora un gol, a Valdebevas contro la Blanchi Violeta. Però rimane lui, perché Borja Majoral, che sembrava quello scelto da Zidane, ha invece scelto di andare alla Roma e sarà un'alternativa interessante per Dzeko. Bene, Zidane ha ruotato tantissimi uomini, già 19 mostrati sul terreno di gioco in tre partite, e soprattutto ha presentato due sistemi di gioco che ci dicono qual è l'idea quest'anno tecnica di Zidane per il suo Real Madrid. È partito con il 4-3-3, giocando con Benzema Centravanti, lui è intoccabile, e come esterni d'attacco Rodrigo e Vinicius, i giovani brasiliani rampanti. Questo perché non era ancora disponibile Hazard, e non lo sarà, sembrava recuperato, si è fatto male ancora, in pericolo il classico per il belga. E Asensio aveva avuto un problema in nazionale, ma doveva ancora fondamentalmente recuperare dall'infortunio al crociato. Asensio è tornato disponibile e ha debuttato nella partita contro il Valladolid. Per cui 4-3-3, diciamo, solita musica per il Real Madrid. Ma nella seconda partita col Betis, e nella terza col Valladolid, Zidane ha cambiato. Ha presentato questo 4-4-2 con un centrocampo senza esterni, quindi dalle due ali, Rodrigo e Vinicius, o Asensio o Hazard, quelli che volete, ha un centrocampo con quattro giocatori di piede. Casemiro, che è rientrato, deve fare ancora un pochino di condizione, non è ancora al 100% Casemiro, come vertice basso, comunque come mediano centrale. Cross si è fatto male, per cui Modric entra in squadra, con Valverde e con Isco. Isco ha avuto la possibilità di giocare parecchio in questo avvio, l'ha sfruttata fino a un certo punto. Per cui voi capite, un centrocampo a quattro che si disegna più sulla forma del rombo che non su quella della linea. Però c'è un lavoro molto più complesso. E questo ha portato anche a presentare due punte davanti, Benzema più Jovic. La cosa ha funzionato fino a un certo punto, Benzema ha già fatto un assist straviliante, ma non ha ancora trovato la via della porta. Jovic continua a litigare con la rete avversaria, anche se va segnalata anche un po' di sfortuna. Si è mangiato un gol contro il Valladolid, ma gliene ha anche negato uno Roberto con una parata pazzesca su un suo colpo di testa. Questa formula, però, finisce per penalizzare un po' quello che in questo momento è considerato a Madrid il vero oro in mano a Zinedine Zidane, ovvero Vinicius Junior. Un altro ragazzino dal quale ci si aspettava parecchio è Odegord, che invece come trequartista non ha tanto funzionato, la maglia del Real Madrid pesa, ma Odegord è sicuramente da aspettare, ha fatto una grande stagione alla Real Sociedad e tornerà molto utile. Adesso però si guarda soprattutto a Vinicius Junior, che è entrato contro il Valladolid sullo 0-0 e con un cambio di sistema dal 4-4-2 al 4-3-3 e ha immediatamente messo il proprio timbro sulla partita. Vinicius Junior è un ragazzo che pur essendo nato nell'estate del 2000 conosciamo da diverso tempo, tant'è che quella contro il Valladolid è stata la sua settantesima partita con la maglia del Real Madrid. Parliamo di un ventenne. 70 partite con la maglia del Real Madrid da 20 anni è roba da Casillas, da Raul, nessun altro. Vinicius Junior, giocatore che col Flamengo aveva già dichiarato apertamente il proprio valore, che è arrivato al Real Madrid e fin da subito ha mostrato cose differenti, soprattutto quando viene messo a giocare nel suo ruolo ideale, ovvero alla sinistra in un tridente portata a venire dentro, a venire verso l'interno, perché ha questo tipo di gioco. È stato schierato anche a destra ma è un'altra cosa, Vinicius, quando gioca a destra, quando gioca lì a sinistra è decisivo, salta l'uomo, favorisce la percussione del laterale che sia Marcello o sia Mandi, va a giocare molto vicino alla prima punta e con Benzema crea una connection tecnica veramente molto profonda e molto produttiva. Si diceva una cosa di Vinicius, ha tantissimi valori belli, è un giocatore scenografico, è un giocatore da Real Madrid ma sbaglia, sbaglia davanti alla porta e in effetti nei suoi primi passaggi insomma qualche gol mangiato si era visto, però parliamo di un ragazzo che appunto nelle sue prime 70 partite con il Real Madrid e a 20 anni, 20 anni ce li ha adesso, quindi quando ha iniziato ne aveva ancora meno, ha già partecipato direttamente fra gol fatti, ha si serviti, rigori procurati, autoretti forzate, ha 24 reti. Per cui se a 20 anni hai già questo tipo di score e sei anche uno che sbaglia gol che non ha freddezza sotto porta, immaginatevi dove può arrivare Vinicius Junior. Io sono convinto che diventerà un crack assoluto del calcio mondiale, è un giocatore potenzialmente da pallone d'oro, Vinicius, su questo ho pochi dubbi, l'ho visto fin da subito, quando giocava nel Flamengo, perché poi sapete, quando poi si osserva molto, si vive, si ama il calcio sudamericano, capita di innamorarsi di talentini che poi insomma sfumano, si perdono. Però capita anche ogni tanto di vedere dei giocatori che ti lasciano delle sensazioni assolutamente fuori da ogni dubbio, impossibili da ribaltare. Mi era successo con Neymar, mi è successo assolutamente con Vinicius. Questo è un giocatore che arriverà ed è un giocatore che in questo momento chiede grande spazio nel Real Madrid, anche perché, insomma, la sensazione è che con il recupero di Asensio, che è un altro giocatore determinante, e un altro un po' meno giovane, ma sicuramente giovane, con prospettive gigantesche, il 4-3-3, possa diventare la veste per questa squadra. Per cui vediamo come si presenta il Real Madrid domani pomeriggio. Io sono convinto che Vinicius avrà spazio, sono convinto anche che Benzema comincerà ad aprire il conto e credo che il Real Madrid sia una squadra in questo momento un filo sottovalutata, perché poi in panchina ha un genio che parla poco, che viene contestato, ma che risponde sempre con il lavoro e con i risultati e ha una batteria piuttosto polposa di talenti e di giocatori che possono portare il Real Madrid a fare un'altra stagione da grande protagonista. Bene, adesso devo partire per utile, per cui vi devo salutare, però ho voluto darvi insomma un po' un dipinto di quelle che sono state le prime settimane di Liga, sapendo che questo weekend dirà delle cose importanti e soprattutto dopo la sosta cominceremo ad accelerare, anche perché, ve lo ricordo, 24 ottobre arriva il Classico e quindi torneremo molto presto a parlare di Liga, vi auguro un buon sabato, un buon weekend in generale e ci rivediamo prestissimo insieme qui sul nostro canale. Grazie. Grazie.